Utilizzare l'arte come strumento per non dimenticare. E' l'intento delle pietre d'inciampo, le piccole targhe create dall'artista tedesco Guten Demling, poste davanti all'ultima abitazione liberamente scelta da coloro che sono rimasti vittime del nazifascismo. Ad oggi il progetto ha portato a Torino 114 pietre, le ultime, quelle in via Piazzi 3, dedicate ai coniugi Alessandro e Vanda Colombo e alla loro figlia Elena, deportati e assassinati nel campo di concentramento di Auschwitz nel 1944. Qui lavoravano nel cortile, che è ancora visibile, e abitavano qui al terzo piano, questa coppia, marito, moglie, una bimba di piccole. A un certo punto la bimba era già sparita e era stata nascosta. Ho un cugino, ora novantenne, che ha ricordo di una sera in cui è arrivata una camionetta di SS, probabilmente, che hanno bussato qui al portone e hanno cercato di andare a prendere queste coppie a Colombo. Non li hanno trovati, allora sono saliti al terzo piano e li hanno probabilmente portati via, perché più nessuno li ha visti. Le pietre dedicate alla famiglia Colombo vanno ad unirsi a un vero e proprio memoriale diffuso in tutta Europa, con oltre 70.000 installazioni che ricordano nomi, date di nascita e di morte, delle vittime della Shoah. Queste pietre sono importanti per riportare qui i nomi di queste persone, perché molti di loro non hanno nessuna lapide. Ora i loro nomi sono tornati di fronte a quella che era la loro casa. La posa delle pietre ha visto la partecipazione di numerosi cittadini e studenti provenienti dalle scuole Calvino e Calamandrei, un modo per ripercorrere una delle pagine più buie della nostra storia e per trasmettere alle nuove generazioni il valore della memoria. È un ammonimento questo, non è soltanto una cerimonia retorica, ma queste pietre di Niciampo sono un invito a impegnarci oggi, perché l'intolleranza, l'odio contro tutti i diversi, l'antisemitismo e il razzismo non abbiano più cittadinanza nel nostro paese e in tutto il mondo. L'iniziativa è promossa dal Museo Diffuso della Resistenza con la collaborazione della Comunità Ebraica di Torino, del Goethe Institute, con il sostegno del Consiglio regionale del Piemonte e della città di Torino.